La nuova puntata di Newsroom, tanti temi che tratteremo quest'oggi lo faremo con Paolo Ciao Luca, buonasera a tutti Buonasera a tutti, Manrico Tombolelli è una conoscenza vecchio stile della palanuoto civile vecchiese e non solo Manrico faceva parte della vecchia guardia della palanuoto che fu Rafforziamo un po' questa cosa Allora, la scelta di far intervenire da parte dei dirigenti della COSAR, di far intervenire Manrico Tombolelli per ciò che riguarda ovviamente il mercato e la gestione dello spogliatoio E' da parte ovviamente di Antonio Parisi e di Fabio Cattaneo e per cercare di dare un assetto un po' più preciso, ordinato se vogliamo A tutto l'ambiente giallo-blu se vogliamo Che in questi due anni, scusa Luca, è stato un po' anarchico da questo punto di vista Diciamo che lo scorso anno è successo un po' di tutto, poi tu stesso hai commentato momenti delicati, risse, bordovasca Infatti sono dovuto fuggire da Civitavecchia per circa un mese No, sì, allora dal punto di vista disciplinare, anzi poi il punto di vista caratteriale disciplinare, gestionale del gruppo è stato un po' un problema Manrico adesso, che è un uomo di palanuoto, conosce da molto tempo l'ambiente, deve in qualche modo cercare di portare un po' di ordine Poi un'altra cosa che ho visto che Tombolelli sta lavorando in quella direzione è quella del sito internet, lui gestisce un sito 1x2 palanuoto, giusto? Allora, Manrico ha creato uno spin-off, tra virgolette, cioè una branca di un altro sito molto grande Concernente il mondo della palanuoto che è Waterpolo Development Notare come ha detto spin-off Sì, faccio questi voli pindarico-linguistici Allora sì, è un super addetto ai lavori, 1x2 su internet sta funzionando molto bene Se ne è il primo o secondo sito in Italia per quanto riguarda clic e informazioni è super aggiornato Quindi sicuramente un po' lo raggiungo E anche la cosa è che adesso avrà un suo sito che, diciamo con l'informazione attuale, essere aggiornati per quanto riguarda internet è fondamentale In partnership ovviamente con gli incontri di MMA Facciamo una piccola battuta su quello che è accaduto insomma all'ultimo periodo, gli ultimi giorni in Cosar È un po' un peccato, dico questo e poi chiudo con la scorsa stagione Perché il gruppo era estremamente valido dal punto di vista tecnico Poi ci sono state delle incomprensioni all'interno dello spogliatoio che hanno un po' portato la squadra stessa a delle problematiche Poi si sono viste anche in acqua Però adesso con Marrio che gestirà il gruppo, le trasferte e le presenze anche in acqua Cioè ci sarà un pacchetto disciplinario, ogni volta dico sempre questa parola Però molto più ferreo, almeno sulla carta Perché anche lo scorso non doveva essere così Ecco, per quanto riguarda la promozione, ho parlato con Parisi Ha detto che non ci dovrebbero essere problemi Però comunque partiamo, ci facciamo un bagno di umiltà Tu che cosa ne pensi? È un'altra serie molto più abbordabile Però sono anche molto più presenti ragazze all'interno della squadra Adrete molto più giovani Quindi sarà all'inizio un periodo di prova, giusto? Sì, allora io adesso esattamente non so chi è rimasto e chi è andato via Valera Toscolano, la storica giocatrice della Costa che conosciamo tutti Dovrebbe aver definitivamente appeso la calottina a chiodo Cioè il telaio fondamentale del gruppo, l'intelagliatura rimane Quindi questo già è un amico di garanzia Dovrebbe aver lasciato Barbara Mameli Sì, sì, ha lasciato Me lo confermi tu Invece per quanto riguarda l'SNC Calcaterra ti aspettavi che andasse via? Onestamente no Però sapevo che la situazione era abbastanza in forze Però onestamente tracciando una linea tecnica Alessandro ha dato il suo contributo Pur non essendo comunque al 100% Problematiche alla schiena Il giocatore non è più giovane Atleticamente parlando Però comunque quando è entrato Quando ha giocato in acqua La differenza ovviamente si percepiva Contevolevo parlare anche di una cosa Che ultimamente è di attualità Ossia il rapporto tra i giocatori e i tifosi L'SNC è un pubblico molto caloroso Lo stesso riguarda le squadre che si trovano al sud Però non c'è quella aggressività che c'è nel calcio È così? Nì Nel senso che dipende dalle partite Dipende dagli sport A Civitavecchia la Palanoto è il primo sport Che se ne dica Io sono un po' un detrattore del calcio No non è vero Allora dipende dalle partite Per di certo è quello che ha ottenuto i risultati Nel corso della storia Nel corso della storia Ricordiamo una finale di Coppa delle Coppe Non voglio fare un'analisi troppo lunga Sociale Perché nemmeno sono all'altezza Però forse dovremmo adottare dei costumi Tra virgolette comportamentali Retaggio di squadre o società del nord Cioè il calore, la festa, la partecipazione Sì Però dovrebbe avere un limite Che poi non dovrebbe andare all'insulto Io l'ho notato spesso Ma non soltanto io Questa è inconfutabile ragazzi Diciamoci la verità Non solo da parte dei tifosi Ma anche alcune volte Troppo spesso Da parte dei dirigenti Io ricordo Negli anni d'argento Della ripresa dell'SNC Parlo del 98-99-2000 Diciamo il periodo in cui retrocedeva E poi veniva promossa Diciamo di sì C'era questa alternanza C'erano alcune partecipazioni Da parte di alcuni dirigenti SNC Abbastanza forti Ci segnalano dalla regia Sono delle apparizioni misteriose E ti dicevo Questo nel corso degli anni Crea un fenomeno sportivo negativo Tra virgolette Cioè Da parte della federazione Cioè andiamo a Città Vecchia Attenzione perché troviamo quello Che se è in giornata Va bene Se non è in giornata Ti tira in birillo Tra virgolette Però è così Cioè è così Quindi quando c'è il calore Che va La partecipazione Che assume una dimensione Grande no? Oppure troppo esagerata Tra virgolette Però ecco Tu mi fai uccidere Ci sono altre dimensioni Quello che è successo Con la nocerina È clamoroso Avrei seguito addirittura I giocatori Che hanno finto degli infortuni Per far sospendere La partita sotto minaccia Della tifoseria Questo è lontano Da succedere Nella palla a nuoto Sì Poi andiamo oltre i confini Gli steccati sportivi Qua andiamo Staccati proprio educativi E quindi qua non finiamo più Non lo so Qua sta succedendo qualcosa di grosso Dal punto di vista comportamentale Cioè proprio anarchia E mancanza di rispetto Non ho 70 anni Ho 30 anni Non voglio fare vecchio Però è proprio così Cioè se i dirigenti Non danno il buon esempio I ragazzini di 15 anni Vedono Crescono Con il dirigente Che dice La prolaccia Quindi per loro va bene Se non è il grande Che insegna il pig Io grande indico Anche il genitore Che non Non fa da censore Da fustigatore Questi crescono così Random Certo E' un macello Questo si collega Anche col discorso Che facciamo alcuni giorni fa Della movita Con i ragazzi più giovani Che diciamo Come dici Non mancano Probabilmente di rispetto Sì Guarda Sulla movita Io Ho sentito Sono uscito un paio di volte Perché non posso uscire Spesso per via delle mie dichiarazioni Sono a casa In un posto Che non posso dire Scusate No Sulla movita Devo dire una cosa E siamo sempre lì Cioè noi non siamo abituati Alla movita Questo è il problema Non possiamo Eh Mo' dirò cose Però io credo questo Prego Paolo Parla Ecco E' bellissimo Cioè i locali a Cittadecchia Ce ne sono diversi Stanno uscendo molto bene Dal punto di vista qualitativo Sia del servizio Chi li gestisce Le idee Non faccio pubblicità Ma ne sono usciti diversi In questi ultimi due anni Il problema non è chi gestisce O potrebbe anche essere chi gestisce Il problema è l'educazione Alla convivenza Che forse non c'è più Pure lì entra in balo tutto L'autodistruzione Bere in maniera incredibile A tutti i costi Quindi autodistruggersi Non so Che modelli noi Che modelli ci vengono propinati alla fine Che sono forse diseducativi Perché sono stato in altre parti Firenze Già Roma Sì Ma nemmeno più Roma E' così sicura Tra virgolette Vabbiamo il discorso E questo è un discorso Che tu fai a livello sociale C'è una problematica sociale Che è sulla Dalle responsabilità dei locali Delle responsabilità degli amministratori Nelle forze dell'ordine È solamente un problema Di famiglia Diciamo Sì Sì Cioè E' proprio chiaro Genitoriale Tutoriale Ma Dei mass media Ci sono Ci vengono proposti Di modelli Assurdi Lungo il discorso No no Questo sicuramente Però è un discorso Ad esempio Una cosa lampante Lo vedo Seguendo le partite Del calcio giovanile Paolo Non è un amante Del calcio giovanile Diciamo così Naturalmente Nella redazione sportiva Di la provincia Seguiamo Che esce Tutti quanti Mercoledì L'inserto Verde calcio Quindi seguiamo Tutte le squadre Giovanili Del compensorio E lì possiamo vedere Come Quello che accade In serie A Poi C'è un'emulazione A livello di calcio giovanile Io mi ricordo Quando Venne spaccato Durante un gol Venne spaccata La bandierina Quella settimana Successiva Vennero spaccate Tutte le bandierine Che era La curva dell'Inter Che lanciò all'epoca Il motorino Era un booster Vabbè Quello ormai Era poco Confrontato a quello Che succede adesso Il discorso E anche a livello Delle grandi società Io qualche tempo fa Senti Quando ancora Ibrahimovi Ci sono del Milan Sì Sono un milanista Quando Ibrahimovi Era al Milan Una dichiarazione Che fece lo stesso Sladani Ibrahimovi È vero Non è un'eresia Questa Di confronti Di Enrico Sacchi Rispose malissimo Ibrahimovi Fa parte Di una lunga schiera Di strafottenze sportive Ibrahimovi E Balotelli Ma quando Balotelli Fa una dichiarazione Non estremamente Quadrata E stiamo sempre lì Cioè ragazzi È questione Di Punizioni Cioè se la società Non Cassano Vabbè Oltre la tifoseria Dell'SNC La tifoseria Della cosa Anche Ibrahimovi E Balotelli Ce l'avranno Con Paolo No però è così Allora Vabbè No no vai Continuo Continuo Cioè Se non c'è Secondo me Il problema Tra virgolette Insomma questa è una Critica generale Che io faccio La mia opinione È sicuramente Sindacabile Se però Però un po' Tutti quanti Non facciamo una sorta Di passo indietro Comportamentale Cioè non Plachiamo gli animi E invitiamo Giornali Giornalisti Trasmissioni di intrattenimento Ragazzi Non lo dico io Lo dicono I maggiori critici italiani Questa è una cosa Estremamente seria Abbiamo subito Un processo Di imbarbarimento Mediatico Di intrattenimento Il varietà Cioè non c'è più varietà Ragazzi Nelle televisioni commerciali Nelle televisioni Forse la RAI Ancora propone qualcosa Di interessante Cioè Però si può Si può tamponare E fare qualcosa Una cosa che ho notato Sembro un vecchio Però sto facendo discussione Una cosa che ho notato Ad esempio È che sia a scuola Ma così Anche quando intervengono Le forze dell'ordine La famiglia Specie in questi momenti Di crisi Ha già diversi problemi E lascia correre Quello che succede Invece Ad esempio Fare delle sanzioni Amministrative Quindi economiche A chi disturba La quiete pubblica Io spacco una bottiglia Ho una multa Da 800 euro Sono convinto Che i genitori A quel punto Sarebbero i primi A correggere L'operato Del ragazzo Piuttosto che Ecco Lo porti in commissariato Per qualche ora Una lavata di testa E poi il giorno dopo Un'altra volta lì Se no Intanto Chiediamo alla regia Gentilmente Di collegarci Con Sonia Bertino Che ci aggiornerà Con quelli Che sono stati Fatti Nella giornata Civitacchia Nel comprensorio Continua Paolo No Non vorrei Che il mio discorso Poi vada A raggiungere I lidi Demagogici Oppure Estremamente pesanti O da Dunque Estremo Fustigatore Però Se non si pone Un freno Anche ai comportamenti Di questi ragazzi Dei giovani Oppure anche Nello stesso Spendere tempo Nei locali Proponendo Un tipo Di regole Normative Seriche Che però Vadano poi Portate a termine Viviamo In una situazione Anarchica Che capisci Intanto Adesso c'è in collegamento Con noi Sonia Bertino Mi senti Sonia? Sì Ciao Luca Allora Sonia Mi Dici un attimo Che cosa è successo Per quanto riguarda La situazione Dell'acqua Ceato 2 A Civitavecchia Ci sono stati Questi incontri Con l'assessore regionale Sia SEL Che Il PD Anche Mi sembra Una Una lista civica Ha preso posizione Ci puoi un attimo Riassumere Quello che è accaduto I commenti Del giorno dopo Sì Allora Il Partito Democratico Così come spiegato da sé L'avrebbe anticipato Con un blitz a sorpresa L'incontro Che Sinistra Ecologia e Libertà Aveva con l'assessore regionale Refrigeri Per parlare di acqua E immediatamente Dopo l'incontro Il PD Avrebbe mandato Ai vari giornali Una nota In cui Diceva chiaramente Che il passaggio A lato 2 Era obbligatorio E l'assessore Refrigeri Non poteva fare altro Che affermare Che a breve Sarà nominato Il commissario Ad acta Nella stessa nota Però si fa riferimento A una legge regionale Per la ripubblicizzazione Del servizio idrico Che dovrebbe essere varata Entro il 31 marzo Del prossimo anno Selle Selle Immediatamente Dopo l'incontro Invia Una nota stampa In cui Si affretta a precisare Che comunque L'incontro È stato positivo Nonostante La conferma Da parte Di Refrigeri Dell'imminente E inevitabile Passaggio A lato 2 Guardando proprio Alla nuova legge regionale Che potrebbe Costituire Uno spiraglio Per Cività Vecchia E per tutti gli altri Comuni Del comprensorio Infatti Questa mattina Il capogruppo Di Sinistra Ecologia e Libertà Ismaele De Crescento Ha affermato Che Ha auspicato Che una volta nominato Il commissario ad acta Questo non prenda Alcuna decisione Fino All'istituzione Della nuova legge regionale Nel frattempo Le liste civiche Prendono anche loro Una posizione Disto che Nei giorni scorsi Erano fatte tirate in ballo Dal sindaco Pietro Tidei Che Nel sostenere La sua posizione Di un passaggio A lato 2 Aveva detto Che di questo Erano d'accordo con lui Anche il Partito Democratico Il PSI E anche le liste civiche Le liste civiche Sostengono di non essere mai State interpellate A tal proposito Che stanno ancora aspettando La famosa Riunione di maggioranza Che si sarebbe dovuta Riunire Già venerdì scorso Proprio per Cercare di parlare E discutere Tutti insieme Di quello Che sarà il futuro Del servizio idrico Cittadino E una volta Inviati i vari Comunicati stampa La stessa lista civica Ha detto Basta con questi giochetti Fratti Dei e Sel In un anno e mezzo Non si è prodotto Assolutamente nulla A causa di queste scaramucce Ecco che il sindaco Ha bacchettato tutti Cercando di ricordare Quelli che erano stati Invece i lavori Effettuati dall'amministrazione Dalle riassertature Fino all'assegnazione Dei parchi pubblici Apprivati Per la riqualificazione Quindi diciamo Animi un po' tesi All'interno della maggioranza Sono un po' tesi I rapporti Anche perché Il sindaco In parte Sta portando avanti Il programma elettorale Che era Dell'opposizione C'è Ato 2 I parchi pubblici Il rapporto Con alcuni Con alcuni privati Vedi Enel No? Sì Senza ombra di dubbio Fra l'altro Nel programma di coalizione Questa era una delle affermazioni Che aveva fatto Selle In una delle ultime conferenze stampa Il sindaco Tidei Si dovrebbe un attimo Riallineare A quello che invece è Il programma del centro-sinistra Ossia il mantenimento pubblico Dei servizi Da HCS all'acqua Fino ad arrivare Ai parchi Però il sindaco Va dritto per la sua strada Affermando soltanto Che c'è una sentenza Quella del Star prima E quella del Consiglio di Stato Poi Che obbliga il comune A passare al lato 2 E contro le sentenze Non si può procedere Allora evidentemente Era di difficile applicazione Il programma elettorale Se poi ha le mani legate Va bene Sonia Ti ringrazio Per il tuo intervento Sempre preciso Qui a Newsroom Grazie a domani Grazie a te Luca Ciao E quindi abbiamo sentito Un po' quello che è accaduto Che cosa avrà detto Il sindaco Tidei Ai partiti di opposizione Mi cogli impreparato Naturalmente Paolo È un bravissimo imitatore Ho provato a stuzzicarlo Ma non è caduto Nel nostro tranello Intanto adesso sentiremo Anche l'assessore Lavori pubblici Mecozzi In quanto ci sono stati Diversi interventi Sull'acqua C'è stato un bando Di affidamento Del parco Iuris Pigarelli Quindi di questo Ci parlerà L'assessore Mecozzi Naturalmente L'assessore Sul discorso Associato 2 Già ha premesso Nella chiamata Che ho fatto Pochi minuti fa Ha premesso Che non vuole intervenire Visto che ci sarà Una riunione In maggioranza E solamente Dopo questa riunione Si uscirà fuori Secondo l'assessore Con una linea unica In fondo Questa maggioranza Ha discusso Su diversi temi Ma poi È riuscita sempre A trovare Una quadra Soprattutto Per quanto riguarda Le idee Diciamo Riguardanti Talcementi Sono stati Diverse riunioni Ricorderete Il consiglio comunale Che c'è stato A inizio mese Nel quale Sembrava Una spaccatura profonda Tra Una spaccatura profonda Tra Il partito di Luciani E Il sindaco Pietro Di Dei E invece Sembra Come una riunione Alle due di notte Prima del consiglio comunale Sono riusciti A arrivare A questa Conclusione Paolo Una domanda Su Civitavecchia In questo anno In mezzo Di amministrazione comunale Ti sembra Ti sembra cambiata Ma guarda Io Ti do una Una risposta Da Buono Onesso cittadino Sono un buono Onesso cittadino Certo Nell'apparenza No sì Allora guarda L'acqua Sì Cioè io sono apartitico Sono senza interesse alcuno C'è l'acqua Cioè è vero Cioè io nella precedente amministrazione Devo dire che Spesso Spesse volte Si dice spesse volte Va bene Ho rafforzato Diciamo che ho avuto Le problematiche Di acqua Di acqua Sì 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 Ho fatto dei diversi Trasferimenti Non perché sono ricco Perché ho dovuto farli Qui mi ha dato casa Un paio di Di volte Due volte E Mancava l'acqua Nei punti dove andavo Poi In questa amministrazione C'è l'acqua Parliamo di acqua Abbastanza contingente C'è l'acqua Sì in effetti Diciamo gli interventi Portati avanti proprio Dall'assessore Mecozzi Abbiamo problemi A contattarlo Più tardi ci riproveremo Appunto Il lavoro Portato avanti Dall'assessore Mecozzi Ha detto È stato appunto Soprattutto quello Di fare manutenzioni All'interno Del sistema idrico Adesso si parla Di questo passaggio Da Cato 2 Comunque È vero Che L'afflusso di acqua È migliorato E in estate Soprattutto Forse Ti riferivi All'estate In cui Nell'estate 2012 C'erano stati Gravissimi I problemi Di acqua Invece Per quanto riguarda L'estate 2013 Non ci sono stati Insomma È un discorso Abbastanza Semplice Ma nella Nella sua semplicità Ha un Fondo Importante Perlomeno per me Che sono Unigienista No Il punto acqua È stato Diciamo A parte gli scherzi Mentre L'estate Dica della città Fine a se stessa Cioè Civite Vecchia Tu Luca mi fai La Civite Vecchia Secondo me Dal punto di vista Meramente estetico È anche piacevole Potenzialmente Però sono state fatte Diciamo Delle Strutture Poco funzionali O comunque Nella parte Della marina Estremamente bella Però forse Grande E' bello Il fatto che Sei grande Ma se è grande Deve essere controllata Significa che Spesso Mari è Sporca O Ti sto annoiando No 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 Scusate Invece la cosa Ti volevo chiedere Era su La statua Del bacio Ti piace Sì è bellissima Sì è bellissima È una cosa Di incrivo Il punto di vista Storico no Perché so che è una statua Che ha fatto il giro del mondo Rimarrà qui a Città Che per un po' Fino che qualcuno La butti giù In una serata Particolarmente movimentata La statua è bellissima No Il fatto che ti dicevo prima Se si creano Delle strutture grandi Dal punto di vista Fisico Devono essere assolta Controllate Dai teppisti Dal punto di vista Della sicurezza E anche Della manutenzione Intanto in collegamento Abbiamo Gabriele Tossio Mi senti Gabriele? Sì ciao Luca buonasera a tutti Sì so che Stai lavorando Ai pochi minuti Ti prendiamo Appunto Un attimo Se ci potevi fare Riassunto Soprattutto Dirci se c'è qualche squadra Nelle categorie Inferiori Che si sta facendo notare Sì io credo che Innanzitutto Santa Marinella Nel campione Di promozione Girone A Stia facendo Veramente molto bene Luca Perché Era partita Con delle ambizioni Di metà classifica Diciamo così Invece Si ritrova A soltanto Due lunghezze Dalla capolista Che è il Nettuno Del Girone A Santa Marinella È stato determinante Il recupero Di Flavio Cagliardini Che in queste ultime giornate Ha segnato E ha portato Tanti punti a raffica Per il minister Domenici Adesso poi vedremo Domenica Previsto anche Uno scontro diretto Tra Santa Marinella Nettuno E la Domenica Dizia Il derby Tra Santa Tevera E Santa Marinella Saranno due partite Importanti Per i dirredici Per quanto riguarda Invece L'eccellenza Perdo un secondo Gabriele Perché prima Noi qui in studio Siamo con Paola Rosa Che ti saluta Ciao Gabriele Ciao caro Prima stavamo parlando Di quello che è successo Sul campo Della Nocerina Sul campo Della Salernitana Con la Nocerina Che ha finto Degli infortuni E Paola appunto Sosteneva Che anche Nella Palla Nuoto Diciamo Il clima Dei tifosi È abbastanza Acceso Per quanto riguarda I tifosi Nel nostro comprensorio Sono mai accaduti I fatti Naturalmente Non gravi Come quelli Con Nocerina Però comunque Fatti Abbastanza gravi Beh Per quanto concerne Civitavecchia E di intorni Assolutamente no Non ha mai discesso Nulla di simile Non ci sono mai state Problematiche di questo tipo Per quanto ti posso dire I campi più caldi Qui intorno Sono ad Ostia E nella periferia romana Dove Avvengono episodi Abbastanza Difficili Per chi va a giocare In quei campi Talvolta È davvero Molto dura Luca Però per quanto Concerno Episodi Qui intorno Dal settore Pirveni O anche Nel Piterpese Di scaramucce Di situazioni Molto sotto controllo Però niente di che Ma io ricordo Niente di che Allora facciamo i complimenti Ai tifosi Del nostro comprensorio Ringraziamo anche Gabriele Tossio Per il suo intervento L'abbiamo rubato al lavoro Ciao Grazie Gabriele Ciao Buonasera a tutti Salve Siamo arrivati Alla conclusione Della puntata di Newsroom Oggi Con questo vulcanico Paola Rosa Che è un po' Bacchettato Ragazzi Tifoserie E ai calciatori Mi bacchetteranno Quindi Non mi vedrete più Ragazzi Comunque Diciamo che Se sopravviverà A tutti Questi amici Che si è fatto Tornerà qui Ospite Con Newsroom Tra l'altro La prossima volta Che verrà ospite Ci farà anche Le imitazioni Di tutti quanti I politici Del luogo E bravissimo Così proprio Dovrò andare direttamente All'isle Cayman Perché le Cayman Va bene Comunque Ringraziamo anche Paolo La Rosa Grazie Paolo Grazie a te Luca Grazie a voi L'appuntamento con Newsroom E sempre per domani Sia con Radio Stella Città E Provincia TV Canale 667 Ciao a tutti A domani Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti